Una verità che non è stata ricercata, che si possiede basta, per dono divino potrebbe dire la De Mari. Silvana De Mari, medico, scrittrice di romanzi fantasy, può vantare, si fa per dire, una certa notorietà per aver espresso pubblicamente qualche anno fa delle opinioni piuttosto controverse sull'omosessualità, l'aborto e attacchi più o meno violenti all'attuale Papa Francesco, che non è riconosciuto come tale e ovviamente da marzo dello scorso anno è salita sul treno dei Novax per le sue posizioni sul Covid. Mi è capitato di recente di ascoltare questo suo intervento dove, dopo aver disinformato abbondantemente sul Covid, parlando di cure domiciliari e tutte le solite menate e farmaci che in realtà sappiamo bene non essere efficaci, ha dipinto 5 minuti di pura meraviglia parlando dell'Apocalisse. E arriviamo alla bestia. Chi è la bestia? C'è una prostituta, una donna su un toro. Che cosa rappresenta? Vestita di scarlatto? Allora, chi era la bestia? Babilonia, per uno che fosse deportato all'Isola di Patmos? L'impero romano. Cos'è l'impero romano? È un impero sovra nazionale, anticristiano, pagano, che affaccia sul metadagno. Questo impero si dissolve nelle nazioni cristiane, Francia, Inghilterra, Spagna, eccetera, ma poi si riforma. Si riforma la comunità europea. Cos'è la comunità europea? Un impero sovra nazionale, anticristiano, pagano, Europa è una donna seduta su un toro, è una figura pagana, che affaccia sul metadagno. Si riforma quando c'è il penultimo dei sette re di Roma. Allora, c'è la città dei sette colli, quale sarà mai sarà Roma. Ci sono sette re a Roma. Dove sono i sette re di Roma? I sette re di Roma sono i papi, perché quando c'è stato il concordato, il papato è stato dichiarato una monarchia sacerdotale. Quindi i papi sono re. Quindi noi abbiamo avuto Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, questo, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, il penultimo, e poi abbiamo Sua Santità Benedetto XVI. Dopodiché non abbiamo più papi, sicuramente abbiamo più papi e re, anche per Bergoglio, sulla cui elezione molti di noi hanno enormi dubbi, perché l'abdicazione di Sua Santità Benedetto XVI è clamorosamente invalida. In tutti i casi ha rifiutato la mazzetta rossa, quindi non è re. Probabilmente non è neanche papa, ma sicuramente non è re. Ora, dopo avervi lasciato a questi cinque minuti che ritengo quasi magici, vorrei approfondire un tema particolare. Perché, a mio parere, la De Mari dimostra al meglio quello che per me oggi è un perfetto esempio di destroide. Cosa intendo per destroide? Intendo quel soggetto che promulga il motto Dio, Patria e Famiglia, ma lo fa declinandolo solo dal proprio punto di vista. Nel caso specifico vediamo come la De Mari parli di Dio e della famosa profezia sull'Apocalisse, decidendo arbitrariamente chi sarebbe chi, chi è il settimo re e quali sarebbero i segni chiave per dimostrare quest'Apocalisse in corso. Questo è lo stesso meccanismo presente in molti discorsi di gente di destra, come Salvini, Adinolfi, quando parlano, per esempio, di famiglia naturale. E anche quando parlano del concetto di patria, emergono delle incongruenze belle grosse. Quante volte non capita di sentirli dire, riguardo per esempio i migranti, che questi bei giovani baldi dovrebbero rimanere a casa loro a combattere per le loro case, difendere le loro famiglie, come hanno fatto i nostri nonni durante la Prima o la Seconda Guerra Mondiale. Poi arriva questa cosa che si chiama Covid, una pandemia mondiale che mette in ginocchio intere nazioni. E c'è un modo di difendere la tua patria, rispettare alcune norme sanitarie come il distanziamento, l'utilizzo della mascherina, poi finalmente con l'arrivo del vaccino, il vaccinarsi, e in seconda opzione almeno l'utilizzo del Green Pass. Tutte opzioni rifiutate, e spesso rifiutate inneggiando alla libertà personale. Bella, no, l'idea di patria? Insomma, irrazionalità ai massimi livelli, relativismo che si taglia a fette, un relativismo convinto di avere in tasca la verità assoluta, una verità che non è stata ricercata, che si possiede e basta. Per dono divino potrebbe dire la De Mari. Detto ciò, e qui la chiudo, la storia del Settimo Re è curiosa, perché il Settimo Papa, fonte Wikipedia quindi se mi sbaglio andate a lamentarvi lì, dovrebbe essere tale San Sisto I. È forte a pensare che San Sisto sia il Settimo, e magari può aver ingenerato un po' di confusione nella De Mari. Però, anche volendo, viene pur sempre quei 1900 anni prima di Papa Benedetto. Quindi, se vogliamo tenerci alle parole senza contaminare il tutto con la nostra opinione o il nostro dissenso nei riguardi di Papa Francesco, beh, questa Apocalisse se l'è presa veramente con calma.